Vincere soltanto il Frangavilla nell'ultima gara del 2016 tra le Lucane di Serie D, 1-0 contro Rinaldo grazie a una magia di Seccom. Mentre per quanto riguarda le altre formazioni della nostra regione tutte sconvitte a partire dal potenza che cade per 3-2 contro la Gelbison a testimonianza di un brutto periodo che sta vivendo la squadra del capoluogo di regione. E' K.O. in trasferta per Vultur e Picerno. I rioneresi sono stati battuti per 4-1 a Dercolano che ha costretto Sosa ad una punizione ai suoi giocatori che ha fatto già rientrare alle 8 del mattino dopo la gara in Campania e c'è stato anche un nuovo acquisto in casa Vultur e nel quello di Poziello. Mentre il Picerno ha perso 2-0 ad Anzio ma restano comunque i 42 punti nell'anno solare della gestione Arleo che restano comunque un grande bottino per la squadra melandrina. So c'è il Lago Negro, campione d'inverno, con il 5-0 sul Corletto Perticara vola a più 4 sulle dirette inseguitrici, Opito e Real Senise, entrambe costrette ai passi falsi i Bradanici nel derby di Genzano per 2-1 sconvitti proprio dall'Alto Brato e il Real Senise che non è andato oltre l'1-1 contro il Vitalba. Il Real Moneta Pondino pure in casa non è andato oltre l'1-1 contro la Murese mentre ha rosicchiato qualche punto alle grandi del camionato il Grumendum che con il 2-0 ha battuto il Lavello e staccando così l'Atronico che ha imbattato tra le mure di casa con il Moliterno. Il Real Tolve è tornato alla vittoria dopo tre partite senza sorrisi con il successo in esterne in casa dello Sporting Matera deciso Selvaggi mentre il Brienza ha vinto la sua prima gara del camionato nello scontro Salvezza contro il Pomarico. Sporting Pignola è la squadra campione d'inverno del torneo cadetto regionale con 37 punti e nessuna sconvitta subita finora. La formazione di Lauria chiude da prima della classe grazie al successo per 2-1 sul candida Murphy. Con un 7-0 il Fidescalera ha battuto l'accenerendo del camionato Fesettirio Nero tra cui spicca il poker di Serritella. L'Oraziana Venosa ha sbancato Paterno per 3-0 mentre Rotonda con un zettebello di reti affondato il colpo sul Salandra. Mentre clamoroso il K.O. interno del Ferrandina contro il Real Latella per 2-0. Il derby del Bassosini invece va al Tursi che supera in classifica il Rotonda Maris con un 3-1 di giornata. Mentre in coda alla classifica ci sono da sottolineare il quarto successo nelle ultime 5 gare dell'Avigliano che spugna Bella e il poker di affermazione consecutive per il Miglionico che ha superato l'Ansi tra le Muramiche grazie a Carbone ed esce così fuori dalla zona play out.